Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati all'auditorium del Forum Internazionale della Cultura Ludica. Abbiamo tenuto in serbo per voi, intervenuti in quest'ultimo pomeriggio di incontri, un gruppo ben assortito di ospiti con i quali discuteremo di giochi tradizionali e lingue minoritarie come fattori di identità culturale. Passiamo a presentare i nostri ospiti. Renata De Ruggeris, dell'Università di Teramo, presidente dell'associazione LEM Italia Emanuele Regano, membro del direttivo Federazione Esperantista Italiana, ex presidente della gioventù esperantista italiana Francesca Berti, dottoranda in giochi tradizionali presso l'Università di Tübingen Andrea Materassi, membro del direttivo dell'associazione Giochi Antichi Egan Karage, Fernando Ramsey, Felix Antoni, capitano della squadra silanca di Lippa Modera a questa tavola rotonda Cesco Reale, coorganizzatore del festival di giochi matematici e del congresso mondiale dei poligrotti e rappresentante ONU dell'associazione mondiale di Esperanto Buon ascolto Grazie Anna Maria, spasiba Allora, io ringrazio innanzitutto il festival Tocatì per averci accolto Abbiamo alcuni degli organizzatori qui tra di noi L'idea di questa tavola rotonda è nata l'anno scorso parlando con Giuseppe Giacon e parlando dei valori del Tocatì dei valori che hanno ispirato questo festival e che ispirano tuttora l'associazione Giochi Antichi sulle comunità ludiche, sulla valorizzazione della diversità ludica dei giochi tradizionali e appunto parlando di questi temi facevo il confronto con le lingue e in particolare citavo l'associazione LEM di cui abbiamo ospiti Renata De Ruggeris, la presidentessa e dicevo loro praticamente fanno sulle lingue il lavoro che voi fate sui giochi quindi la valorizzazione delle comunità non ludiche ma delle comunità linguistiche almeno sul territorio italiano, non solo e per cui da qui poi abbiamo, durante l'anno abbiamo discusso un po' i dettagli e abbiamo deciso insomma un po' come organizzare questa tavola rotonda il testo che abbiamo, il titolo appunto i giochi tradizionali e le lingue minoritarie come fattori di identità culturale e approfitto per leggervi le poche righe che abbiamo messo in programma che sintetizzano un po' l'idea di oggi quindi in un mondo di migrazioni e globalizzazione che ruolo hanno i giochi e le lingue nel processo identitario legarsi a fattori identitari significa chiudersi al confronto o significa usare la propria identità come valore di scambio culturale questa è la domanda in parte domanda retorica per molti della giornata di oggi per alcuni la risposta può essere banale ma sicuramente ci sono molti che non magari la pensano in maniera diversa quindi secondo me è importante parlarne e fare questo parallelismo allora prima di lasciare la parola ai nostri ospiti volevo fare una piccola introduzione un piccolo parallelismo appunto tra i giochi e le lingue e qui io per mia abitudine cerco sempre di coinvolgere il pubblico quindi chiederò a voi cosa ne pensate io ho fatto un piccolo delle diapositive per illustrare schematicamente questo confronto tra giochi e lingue e quindi vi propongo questo parallelismo voglio sentire anche le vostre idee per cui cominciamo nelle lingue abbiamo una grammatica per esempio ora il parallelismo nel caso dei giochi secondo voi qual è? cos'è il corrispettivo nel caso dei giochi? se ne... eh? le regole del gioco esatto quindi il regolamento no? e questo è abbastanza intuitivo nei giochi abbiamo dei pezzi di gioco cosa potrebbe essere secondo voi un corrispettivo rispetto al mondo delle lingue? le parole anch'io effettivamente ho pensato a questo ovviamente ci possono essere tante interpretazioni diverse però anch'io quindi il pubblico mi conferma non l'ho pagato non ci eravamo messi d'accordo quindi nei giochi abbiamo dei pezzi di gioco con cui giochiamo e nelle lingue questi pezzi sono sostanzialmente le parole poi magari i linguisti potrebbero argomentare se parliamo di morfemi o di fonemi però insomma per andare sul semplice parliamo di parole nelle lingue con queste parole costruiamo costruiamo delle frasi nei giochi con i pezzi quale potrebbe essere secondo voi le mosse le mosse o le azioni di gioco anch'io avevo pensato a questo quindi mi diciamo sono contento che effettivamente il pubblico mi dà conferma questo parallelismo a cui avevo pensato e infine con queste mosse o azioni costituiamo una partita giocando alternativamente non sempre però insomma se facciamo un gioco a due giocando alternativamente mossa dopo mossa si crea una partita nelle lingue con le frasi un dialogo un discorso esatto ok quindi questo era così una piccola introduzione sul parallelismo giochi lingue l'ultima cosa che volevo dire poi appunto lascio la parola agli altri relatori per chiudere il parallelismo ancora due cose una per chiudere il parallelismo in entrambi sia nei giochi che nelle lingue abbiamo un'evoluzione perché anche i giochi evolvono analizzando la storia dei giochi si sa abbiamo una storia una tradizione delle comunità che è appunto poi uno dei temi di cui parliamo oggi e un concetto di identità identità legata al gioco e alle lingue quindi il fatto di dire io per esempio da piccolo giocavo a questo gioco lo ritrovo in un altro posto e quindi io ritrovo delle mie radici ad esempio per le lingue discorso analogo e inoltre sia le lingue che i giochi possono essere dei mezzi di incontro e di conoscenza dell'altro e delle altre culture ecco l'ultima cosa che volevo dire è sul discorso lingua e identità ho trovato un concetto molto interessante di un professore statunitense che insegna all'università di Fukuoka in Giappone io ho sentito un paio di sue conferenze nei incontri poliglotti lui parla oltre 20 lingue di cui 10 lingue asiatiche tra parentesi insegna all'università in cinese e in giapponese e lui insegna gestione della diversità culturale in ambito imprenditoriale in contesti aziendali e ha pubblicato delle ricerche in particolare parlando di questo concetto che per quanto mi risulta ha coniato lui dell'ego permeabilità cioè la capacità di una persona di essere più o meno permeabile alla diversità e in questo studio c'è un articolo anche che si trova in rete lui mostra una correlazione quindi poi spiego meglio una correlazione tra una forte identità individuale e l'apprendimento linguistico cosa vuol dire ci sono dei test psicologici per andare a misurare una persona risponda a delle domande e poi si può più o meno misurare qual è il grado di di forza dell'identità di questa persona cioè se una persona ha una forte identità individuale o una debole identità individuale e poi questi parametri sono stati messi questo parametro è stato messo a rapporto con la facilità di apprendimento linguistico e si è visto che a un livello statisticamente significativo che persone che hanno una forte identità individuale sono persone che tipicamente riescono a imparare facilmente altre lingue questo ovviamente indipendentemente se siano dotati o meno come si dice più portati o meno portati è un discorso proprio di non di predisposizione ma di atteggiamento che si ha nei confronti del voler apprendere una lingua del voler mettersi in gioco del voler scoprire un'altra cultura e al tempo stesso in questo studio si mette in evidenza come invece una debole identità individuale si traduce in una ricerca di identità sociale quindi nel gruppo per esempio che può essere gruppo familiare gruppo di amici gruppo cittadino gruppo di interesse e così via però una ricerca quindi al di fuori di se stessi e questo porta anche a una paura di conoscere di essere attaccati contaminati da altre culture diverse perché si cerca la propria individualità la propria identità nel gruppo e quindi si cerca di restare attaccati a questo gruppo in un certo senso e quindi tipicamente questo porta invece a una paura dell'altro e questo si traduce nell'apprendimento linguistico appunto in questi studi che sono stati fatti si notava come questa seconda tipologia di persone invece ha meno interesse nell'apprendimento linguistico e anche meno capacità di apprendimento linguistico quindi ovviamente alle domande lette all'inizio aggiungo questa domanda ai nostri ospiti cosa pensate voi di questo concetto visto che oggi si parla di identità sui giochi e sulle lingue sia appunto nel campo dei giochi sia in quello delle lingue cosa ne pensate quindi io chiudo qui la mia introduzione prima di lasciare la parola a Andrea Materassi per l'introduzione anche di i valori dell'aga e così invito comunque il pubblico a interromperci lo dovevo dire prima di parlare io ma mi sono dimenticato a interromperci in qualunque momento abbiamo un microfono per il pubblico quindi se avete domande interventi commenti non esitate a chiedere il microfono e a intervenire quindi io intanto lascio la parola a Andrea Materassi dell'associazione Giochi Antichi quindi quali sono i valori dell'aga che hanno fatto creare diciamo hanno permesso la creazione del Tocati rispetto alle comunità ludiche ai giochi tradizionali beh innanzitutto a nome di Aga ringrazio tutti voi di essere qui a Tocati quest'anno l'identità di come è nata comunque Aga e di come è nata la comunità ludica dello Scianco io mi sento a dire che l'abbiamo scoperta dopo aver cominciato il raggruppamento dei giocatori di Scianco perché non sapevamo che i contenuti fossero così importanti in un momento politico di 16 anni fa molto oscuro c'è venuto in mente cosa facciamo la situazione è triste ricominciamo a giocare a Scianco riprendiamo i giochi che facevamo da ragazzi e abbiamo cominciato a dirlo in giro Scianco è la versione veronese della Lippa della Lippa quindi è una specie di baseball italiano chiamiamolo così siamo i primordi esatto e abbiamo cominciato a raccogliere persone ma sono diventate moltissime e è cominciato a farsi un campionato poi abbiamo cominciato a guardare in altre città se c'erano altri che giocavano allo stesso nostro gioco o al simile gioco abbiamo cominciato a giocare anche con loro fra le altre anche nei paesi qui vicino si giocava in altra maniera poi pian piano sempre di più abbiamo scoperto che appunto il territorio si identifica molto col gioco che pratichi e tutto quello che dicevi prima insomma soprattutto noi manteniamo l'identità nostra nel momento in cui giochiamo a Scianco a Verona anche con altre squadre di altre parti loro giocano a modo nostro quando andiamo a giocare nella loro città o nell'altro paese giochiamo a modo loro così è anche proprio uno scambio culturale di apprendere nuovi modi di giocare con nuove regole appunto quello che si diceva prima si può continuamente evolvere vuol dire noi abbiamo ripreso un gioco che era quasi perso ma adesso è assolutamente ritornato e continua ad evolversi anche adesso il regolamento continua ad essere messo in discussione dagli stessi giocatori nuove regole nuove possibilità ed è assolutamente vivo tu tra l'altro sei uno sei anzi forse il capo degli arbitri il gioco è della gente per cui non siamo capi di niente siamo quelli un po' che gestiscono ti occupi dei regolamenti comunque insomma quindi è una questione che conosci bene a freno o perlomeno quando si propone qualcosa di nuovo del regolamento bisogna avere già delle idee perché se dici facciamo una nuova regola quando mi è più finito insomma e poi l'aga a partire da ripa si è ampliata ha toccato altri giochi ha scoperto che in Italia ce ne sono di assopiti o ancora praticati centinaia e centinaia e allora l'associazione è diventata più corposa abbiamo cominciato ad avere un archivio effettivo di giochi così nasce il Tocatì con invito delle altre comunità ludiche in questo spazio e naturalmente c'è sempre dietro l'importanza del gioco e dell'acquisizione del territorio il Tocatì è riappropriarci degli spazi che sono anche nostri dei cittadini e della nostra città insomma dove si giocava una volta li liberiamo per un po' dalle automobili e si ripraticano i giochi che si facevano una volta nelle piazze per pochi giorni però anche quando facciamo il campionato andiamo a giocare a marzo o fino a giugno nei vari paesi vicino a Verona e vengono riprese le piazze e non giochiamo mai nei campetti insomma il gioco viene praticato nei posti principali dei paesi dove andiamo a giocare e questa rivitalizzazione delle comunità ludiche oltre che per la Lipa funziona bene anche avete visto anche su altre comunità che diciamo grazie al Tocatì grazie a questo entusiasmo del Laga mi sembra proprio di sì altre comunità dei virilli a parte che certe erano già molto avanti quelle delle ruzzole emiliane erano già sul territorio e c'erano già campionati ma sicuramente è stato un momento in cui il fatto di sentirsi parte anche l'Atlante che abbiamo edito è come un momento in cui anche la comunità più piccola che è stata rappresentata in quel libro si sente legata a molte altre comunità e non è abbandonata da sola insomma molte piccole comunità non avevano neanche un sito internet le abbiamo scovate quasi per caso perché detto da altri amici o da altre comunità guarda che là giocano siamo andati le abbiamo incontrate le abbiamo fotografate le abbiamo appunto documentate perfettamente sono pubblicate e credo che anche loro attraverso questo Atlante che stiamo e che è in continuo divenire che ci saranno altre edizioni insomma per ora abbiamo pubblicato 32 giochi su questo Atlante come si chiama Atlante giochi tradizionali d'Italia giochi tradizionali d'Italia e per acquistarlo si può lo trovate anche alla libreria del gioco anche in questo momento ok anche via internet si può credo di sì non so se abbiamo possibilità la spedizione tutte le cose come sia non mi pare no visto che avremo poi saremo anche in rete il video probabilmente sì insomma sono capace di giocare al gioco ma no come internet non me la passo è più complicato più facile giocare al gioco va bene no no sicuramente il Atlante è un punto di riferimento anche per le piccolissime comunità ludiche insomma vediamo ecco si va anche nelle scuole naturalmente a insegnare si spera che ci sia un incontro con il provvedizionato agli studi per strutturare meglio perché per ora è ancora un interessamento del professore che voglia di far fare qualcosa di diverso ai suoi allievi e così non è una situazione così facile se ci fosse qualcosa del provvedizionato agli studi che dà un riconoscimento insomma anche al gioco tradizionale sarebbe molto interessante abbiamo avuto la fortuna di avere molti paesi qui al Tocatì è stato anche detto che qualche volta delle squadre professionali di pallacanestro ad esempio a Taiwan fanno una full immersion per un mese in un gioco tradizionale perché ha una creatività molto maggiore che uno sport con regole ferre noi non abbiamo mai nessun campo delle stesse misure si fanno regole appositamente per quel campo o per quel momento per le imperfezioni del terreno c'è molta più fantasia in un gioco tradizionale perché non ha o disposti a giocare in un'altra maniera se vado a giocare a Milano gioco in un'altra maniera e all'istante cambio il gioco è simile però ci sono nuove regole e come da giovane nonostante l'età ci si mette in linea con con le nuove regole acquisite in quel momento insomma certo grazie prego Andrea grazie a voi allora Renata ci presenti l'associazione LEM Italia e il vostro splendido lavoro sulle lingue minoritarie sì mi puoi assistere con sì sì la parte sul gioco o sul 99 domande o sul il powerpoint che sta sul desktop sì ringrazio Cesco Reale per avermi dato la parola e ringrazio il festival di Tocatì che sta ospitando in questo momento l'ultima tappa della carovana tramontana sulla diversità linguistica vedete qui il totem l'ultima tappa dicevo di oltre 20 comunità di minoranza linguistica l'associazione LEM Italia è un'associazione che si occupa dal 2008 di lingue di minoranza lingue d'Europa e del Mediterraneo e quest'anno abbiamo fatto un lungo viaggio il video non lo prende riesci a metterlo ok no lui non lo vede ok perfetto ecco scusate quindi questa qui è l'anteprima della locandina della carovana tramontana che nasce come un progetto di un gruppo di linguisti che in effetti posso dire coraggiosamente ci siamo stancati un po' del fatto che l'accademia dall'alto dica alle comunità di minoranza voi avete bisogno di questo voi vi sentite così voi siete colà e quindi siamo andati con un gruppo di studiosi a incontrare personalmente queste comunità di minoranza linguistica e a condividere con loro conoscere sia i cittadini ma anche le istituzioni quindi gli enti gli amministratori o le associazioni le proloco che si occupano di mantenere viva la diversità o il patrimonio immateriale di questi luoghi e a proposito puoi andare avanti con la slide qui vedete una parte del percorso che abbiamo di questo anno di questa carovana che ci ha portato fino adesso alla data del 17 settembre qui al festival di Tocatì grazie a tutti per essere saliti a bordo di quest'ultima tappa carovana a proposito dei giochi delle lingue abbiamo potuto riscontrare diversi fenomeni alcuni comuni hanno una vitalità molto evidente della lingua tipo un paese che si chiama Lungro una comunità di minoranza Arbreche in provincia di Cosenza invece ne parlavo poco prima con la mia collega Silvia Pallini che è qui con noi nella comunità di San Fratello in Sicilia non si usa l'Arbreche come lingua veicolare ma curiosamente non viene trasmessa ai bambini però curiosamente i bambini quando giocano in strada come? ah i galloitalici usano la lingua galloitalica per giocare nei giochi di strada quindi non sarà la lingua diciamo di famiglia o di lavoro però è la lingua ludica è la lingua del gioco e dell'identità del gioco ed è proprio attraverso questa lingua che creano la rete e il gruppo vediamo ancora un'altra slide vi faccio vedere se fai un doppio clic ti ringrazio sì grazie l'Accademia della Crusca io sono sono un linguista mi interesso ecco avete una referenza avete un punto di riferimento la ringrazio all'interno dell'Accademia quella che c'è a Firenze sì 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 dico non abbiamo un contatto che collabora con i nostri lavori di ricerca e non abbiamo un referente all'Accademia della Crusca la nostra è un'attività che nasce intanto come associazione di linguisti dell'Università di Teramo però ci siamo un po' separati devo dire la verità dalle istituzioni non attendiamo di avere il finanziamento per fare l'indagine sul territorio così che nasce quello che noi abbiamo denominato linguistica dello sviluppo sociale un'applicazione della sociolinguistica appunto andando a visitare e facendo inchieste sull'identità e il rapporto tra lingua e identità delle popolazioni però se lei ci vuole segnalare un riferimento presso la Crusca saremo contenti di poterlo far salire a bordo e far conoscere questa parte dei lavori per concludere perché non voglio sconfinare il tema le parole possono guarire secondo lei la ringrazio le parole dicono che possono fare male a seconda dell'uso non so se lei intende la parola che può guarire come effetto sulla persona che riceve la parola ci sono diverse teorie io non le conosco nello specifico conosco alcune teorie però sono più metafisiche sulla riproduzione del suono su come l'onda raggiunge una sfera però lì penso che stiamo fuori dall'area della linguistica in questa piccola clip c'è un piccolo riassunto con alcune immagini estrapolate da alcuni incontri che abbiamo fatto presso alcune comunità ad esempio gli occitani di Guardia Piemontese sempre in Calabria o a Faeto c'è le di San Vito comunità franco-provenzali in provincia di Foggia sono tutte comunità tutelate dalla legge costituzionale la 482 la nostra associazione quindi si occupa di promuovere anche il territorio mediante delle azioni qui vedete puoi andare avanti ancora qui avete un riassunto delle principali tappe comprese l'ultima tappa qui al festival di Tocati puoi andare avanti grazie Cesco oggi improvvisato tecnico allora uno dei lavori che è emerso da questo lavoro di contatto diretto sul territorio è stata la creazione di un sito web che si chiama parchi etnolinguistici d'Italia www.parketnolinguistici.it nel quale raccogliamo un tipo di turismo alternativo basato sulla conoscenza di un territorio che promuove la propria diversità linguistica possiamo andare avanti con le penultime slide in questa carovana abbiamo portato questo lavoro che si chiama Missus che è un documentario forse un film di un'oretta in cui viene documentato il lavoro di alcuni parroci del Friuli che hanno proposto il messale in lingua friulana è stato per il regista è stato un momento di forte emozione quando è stato presentato questo film che è interamente in lingua friulana presso comunità di lingue di minoranza del sud dell'Italia è un lavoro molto interessante andiamo a vedere le ultime slide queste sono alcune delle pubblicazioni che abbiamo realizzato come associazione LEM alcune sono qui esposte sul tavolo dicevo che una delle attività che abbiamo realizzato è che ed è l'argomento per cui siamo anche qui in questa piazza di Tocatì ed è la presentazione di questo gioco che in realtà è anche una pubblicazione si chiama 99 domande sulla diversità linguistica e i diritti linguistici che è una non abbiamo inventato noi il gioco delle 99 domande già diciamo esiste come format editoriale esistono le 99 domande sul giro d'Italia 99 domande sul risorgimento diciamo quello che si ritiene di cultura generale che le persone dovrebbero conoscere come livello standard quindi noi proponiamo abbiamo chiesto a 10 ricercatori di fare per noi una ricerca sugli argomenti come ad esempio pianificazione linguistica il rapporto tra lingue ed economia che costa la diversità linguistica mi puoi lanciare qui abbiamo preparato questa diapositiva in cui si vede bene una carta con la domanda e risposta il testo è in bilingue italiano e lingua francese in attesa di essere tradotto ancora anche se abbiamo portato qui la versione in friulano eccola qui questa è in lingua friulana con il contributo dell'ARLEF l'associazione di promozione della lingua friulana e sempre del 99 domande abbiamo la versione del romanì perché l'edizione del 2014 è stata dedicata alla promozione anche della legge dell'inclusione della lingua romanì e delle minoranze rom all'interno della legge costituzionale dicevo che questo qui è un gioco ma è anche un testo tra l'altro è una parte monografica del mio esame di lingua spagnola sono docente di lingua spagnola la prima domanda la vedete è proprio che cos'è la diversità linguistica vi domando se voi avete un'idea su che cos'è la diversità linguistica se sapete quante sono le lingue parlate nel mondo se avete un'idea di un numero alcuni mi dicono 100 diciamo qualche migliaio abbiamo suggerito qui una risposta che viene da etnolog però è una cifra non precisa anche tra i linguisti non c'è un grande accordo se includere o no i dialetti come lingue e ci siamo soffermati tra un numero impreciso ma superiore a 6.000 lingue parlate di cui circa la metà in via di non tutte non tutte vitali non tutti con grandi livelli di vitalità secondo le norme le nostre normazioni per verificare il livello io stesso ho condotto un'indagine sulle lingue di minoranza indigene in sudamerica e solo in venezuelana erano 41 di lingue indigene e tutte 41 riconosciute come lingue ufficiali dalla costituzione venezuelana però nel 2007 quando ho fatto quest'indagine di queste 41 lingue due erano già pericolosamente in via di estinzione perché avevano una solo due locutori un nonno e un nipote e l'altra erano 11 locutori e di cui probabilmente non avrebbero fatto in tempo a lasciare non avendo realizzato lavori di lessicografia o di raccolta di standardizzazione della lingua vai avanti con l'ultima slide qui vedete ecco qui vedete alcune immagini puoi andare avanti delle soste che abbiamo fatto li vedete anche che c'è una una bandiera che è la stessa bandiera che abbiamo proposto qui in questo tavolino che è la bandiera che noi abbiamo presentato al primo congresso mondiale sui diritti linguistici e rappresenta la diversità linguistica ovvero tutti i fonemi dell'alfabeto fonetico o quasi tutti e in più vedete anche il simbolo di una mano per il riconoscimento dello status alla lingua dei segni la lis qui abbiamo altre immagini e infine se avete voglia di approfondire o conoscerci un altro po' la nostra associazione LEM qui abbiamo alcuni dati abbiamo anche una pagina facebook che è sempre aggiornata e siamo a vostra disposizione rinnoviamo i ringraziamenti ai nostri anfietrioni ai nostri ospiti grazie grazie Renata se avete domande si se ci sono intanto domande su questo su quanto ho discusso finora o su quest'ultima parte discussa da Renata De Ruggeris sulle lingue minoritarie una domanda e poi procediamo una delle domande che è la mia preferita perché è giocosa è la domanda numero 49 è vero che il cane giapponese non fa bau bau risposte dal pubblico esatto siccome si usa l'onomatopea in giapponese il suono qui non riporta ma è wong wong questo è un bel aneddoto perché da bambini giocavamo al gioco della bella fattoria nella bella fattoria quante veste a ziotopia c'è il maiale da noi si fa il verso con il naso però se lo fai con degli amici che parlano delle altre lingue escono degli altri suoni per cui esce c'è il maiale oink oink c'è il cane il cane soprattutto ti guardano e dicono ma com'è che i cani italiani fanno bau bau c'è stata all'ultima all'ultimo congresso poliglotto a bratislava a giugno c'è stata proprio una conferenza sulle onomatopee in varie lingue confrontando tutte queste queste cose questi suoni scusami hai nominato l'onomatopea e noi a Verona la lipa giochiamo a cianco e qui ci sono i dubbi lo cianco è il rumore dei due pezzi di legno che si scontrano o è il rumore dei vetri rotti perché molti giocatori si ricordano fino agli anni 60 di avere rotto molti vetri vuol dire che sono tra i fortunati che hanno ancora potuto fare il gioco di strada allora questo cianco qui si dibatte molto a Verona da dove provenga grazie per il tuo intervento solo per per chi osare è chiaro che quest'opera di 99 domande non sono tutte quante su se è vero che il cane fa bau bau quella era la più diciamo così un po' divertente in realtà uno dei lavori che abbiamo fatto a proposito della diversa linguistica ci stanno proponendo adesso che è molto costoso mantenere la diversa linguistica in Europa quando il motto è uniti nella diversità per cui abbiamo chiesto a un ricercatore che è esperto di rapporto tra lingua ed economia ci dici quanto costa mantenere questa diversa linguistica l'autore delle ultime dieci domande è Michele Gazzola che salutiamo da Tocati la domanda è quanto spende l'Unione Europea ogni anno per i servizi di traduzione e interpretazione noi non sappiamo quanto però immaginiamo ma sarà tantissimo ve lo dico io riporto le parole di Michele Gazzola 1,1 miliardi di euro nel 2012 pari solo allo 0,00087% del PIL lordo europeo ovvero 2,2 euro a cittadino quindi questo è quello che costa a noi cittadini dell'Unione a 28 nazioni Paesi membri quanto costa mantenere la diversa linguistica quindi non è vero che 2 euro l'anno a cittadino è una spesa che non possiamo affrontare per mantenere la diversa linguistica chiudo e qui prima di passare al prossimo relatore colgo l'occasione per citare il rapporto GRIN che è un professore dell'Università di Ginevra che è stato tra l'altro professore di Michele Gazzola anche e che si occupa di economia delle lingue e che ha pubblicato questo rapporto credo 7,8,10 anni fa comparando i costi delle politiche linguistiche dell'Europa facendo diversi scenari uno scenario trilingue francese inglese tedesco a parte l'inglese è in uscita come dice Juncker uno scenario solo inglese uno scenario solo esperanto uno scenario a 21 lingue e mostrando costi alla mano come formare nuovi insegnanti di esperanto da zero costerebbe e avere quindi un'Europa a mono esperanto costerebbe meno all'Europa che tutti gli altri scenari compreso lo scenario a mono inglese questo magari poi ne parliamo con Emanuele Regano ex presidente della Giovento Esperanto italiana però adesso lascerei la parola invece a un giocatore quindi sentiamo invece la proprio le parole di chi l'identità la come si si adesso adesso le metto di chi appunto questi discorsi sull'identità nel gioco le vive in prima persona le ha vissute le vive ancora Fernando Ramsey capitano della squadra stridanchese di Lippa ciao Fernando il nostro saluto tradizionale vuol dire vi auguro vivere lungo 15-16 anni fa abbiamo trovato amici insomma adulti parlando insieme con loro abbiamo loro scoperto il cianco simile gioco abbiamo anche noi giocato nei campi però e così nostro giovani insomma eravamo giovani 15-16 anni fa anche io abbiamo cercato di allenare come si gioca il cianco qua a Verona insomma per la strada come giochiamo noi i campi anziché qua ci sono tante regole da imparare quindi abbiamo cercato di imparare le regole e anche il gioco di sistema di gioco e così cercato di migliorare non sapendo le regole abbiamo all'inizio avuto problemi quindi ancora non anni passati è andato ancora quindi comunque sono tanti problemi perché ancora la nostra comunità non ha capito il valore di questo gioco antico quindi rimasti pochi giocatori interessati per presentare ogni anno questo gioco questo è una difficoltà enorme per la nostra comunità per proseguire questa attività intanto avete domande per il nostro gioco ci sono altri giochi antichi dal nostro paese sto comparsendo perché non sono registrati o il governo che ha fatto male per togliere questi giochi antichi dalla scuola perché quando eravamo piccoli ai testi dei libri già scritti questi giochi adesso tutto è tolto non so cosa metto messo affinché a fianco di questi giochi avete domande magari risposto se no passo non so chi è la prossima io ci sono domande già altrimenti io avevo sì chiede microfono chiedevo se esistesse una squadra nazionale di questo no perché nazionale non si gioca questi giochi giochiamo solo i bambini questo gioco nei campi bambini tra 6 12 anni d'età e dopo cominciano altri giochi per esempio io ho giocato circa 6-7 anni di mia età da 6-12 anni e dopo cominciato a giocare calcio kicker e dopo altri giochi insomma adulti non si giocano mai questi giochi questo gioco a fianco noi giochiamo si chiamano calli però ci sono altri tipi di giochi che sempre giocano i bambini non adulti quando c'è quando brutto tempo si giocano dentro la casa ci sono per esempio un altro gioco è il seme di tamarindo è un altro gioco si gioca nel tavolo è così e ovviamente il gioco della lippa ha un suo linguaggio cioè ha dei nomi ha dei nomi precisi per indicare delle mosse degli elementi propri del gioco ci sono delle parole il gioco si chiama calli però giocano in diversa maniera non si può giocare nelle strade si vuole in campo bisogna fare un buco lungo magari 30 centimetri e dopo come l'ippa qua tra 10 e 15 centimetri quello se troviamo e strappiamo un ramo dell'albero e subito si fanno attestature e dopo ci sono 5-6 giocatori insomma non giochiamo le squadre gioca individuale e così divertiamo magari quando il tempo dipende da chi vuole grazie io mi scuso ma non sono stato presente fino a poco tempo fa alla vostra discussione però parlando di giochi e di lingue mi è venuta questa curiosità come esistono gli atlanti linguistici volevo chiedere se esistono già degli atlanti ludici che permettano per esempio di costruire un areale in cui il gioco della lippa è presente seppur con diverse denominazioni siccome nel nostro stand e nella mostra che abbiamo allestito adesso al nostro museo si parlava di giochi io facevo cenno ai visitatori che passavano ho registrato i maltesi che mi parlano della lippa con il loro nome i veronesi come avete detto voi altre provenienze a parte la lippa o sulla lippa sapete se esistono degli atlanti che costruiscono questo tipo di geografia prima nella presentazione di AGA dicevo che abbiamo pubblicato un atlante che riguarda tutta l'Italia comunque riguarda 32 comunità ludiche italiane è un atlante in progress perché queste 32 le abbiamo studiate ma ce ne sono migliaia di altre insomma per cui abbiamo cominciato col primo e pian piano man mano che approfondiamo pubblicheremo altre cose sulla lippa non c'è da solo sulla lippa c'è sulle varie comunità anche molto piccole o più grandi di tutte le regioni perché prima abbiamo pensato di pubblicare almeno una due comunità ludiche per regione ecco però se non capisco male voi avete fatto un censimento diciamo così di salvaguardia valorizzazione di comunità che hanno giochi che loro ritengono particolari è giusto? non tanto particolari cioè che praticano dove ci sono gruppi un po' anche strutturati qualche volta che praticano ma voi partite dalla comunità io invece partivo dal gioco comunità e territorio comunque dallo specifico gioco per dire così come esiste l'attrante linguistico degli attrezzi da pesca nelle acque interne per cui tu sai che l'attrezzo tale è attestato con nomi diversi sul Trasimeno sul lago di Como o a Lesina volevo capire se esisteva una cosa fatta a partire dal gioco per esempio dalla lippa su un territorio nazionale internazionale no per ora no su un gioco unico no non ancora facciamo tentiamo di mappare quello che sono le comunità italiane poi sarà anche perché continuiamo a trovarne di nuove se tu cominci a costruire un libro e pensi di essere di aver raggiunto la conoscenza di tutti i giocatori di lì italiani avrai sbagliato sicuramente perché ne viene fuori qualcun altro è nuovo per cui sei sicuro abbiamo visto sulle ruzzole su tanti giochi e man mano trovi altra gente pian piano che dice ma anche noi giochiamo la chiamiamo in un'altra maniera non puoi mai essere sicuro di aver concluso una ricerca sotto questo aspetto mi sento di dire Massimo che potrebbe anche essere e sono sicura che se andiamo su internet e googliamo nomi della lippa potrebbe essere che potremmo trovare delle liste di nomi perché il mondo ludico non so se è anche così per il mondo dei linguisti ma il mondo ludico è un mondo fatto è frammentato è fatto di studiosi ed è fatto di appassionati che non necessariamente sono dei ricercatori sono collegati con una particolare università però hanno quella passione lì ad esempio so che c'è un collezionista di trottole in Emilia Normagna non mi ricordo più dove che è il più grande collezionista di trottole d'Italia e ne ha centinaia e migliaia ne ha migliaia oppure un professore dell'università di Palermo che ha fatto invece la mappa rispetto alla tua domanda sulla lippa lui ha fatto la mappa dei nomi delle trottole in tutta la Sicilia e ne ha trovate più di 70 ogni paese chiama la trottola con il suo nome per cui è una domanda anche difficile a cui rispondere questa delle mappature poi dei giochi potrebbe anche esserci però noi non ci siamo ancora arrivati non abbiamo ancora scoperto questa ricerca e rispetto mi inserisco alla domanda di prima rispetto al gioco dello scianco a Verona e se ho bene capito la tua domanda per giocare a scianco ci sono anche delle chiamate c'è un gergo che è il gergo proprio del gioco come si fa a giocare se poi nel caso della squadra di Ramsey i giocatori provengono da un altro paese beh da una parte provengono da un altro paese però vivono a Verona e potrebbe anche essere come Ramsey da 20 anni vive a Verona e dunque parla il dialetto veronese anzi prima probabilmente era una proprietà di linguaggio superiore magari a quella della lingua italiana ma poi il gioco e qui c'è un po' ci si un po' i nostri temi un po' possono divergere il gioco è anche una di quelle possibilità umane di comunicazione al di là della lingua cioè noi possiamo giocare lo stesso gioco conoscendolo senza dover comunicare un po' come la musica al di là di questo la squadra di Ramsey è la squadra più forte del campionato perché sono bravissimi perché giocando il Calle e dunque hanno dimestichezza nei gesti una volta che hanno capito le regole correggimi Ramsey se sbaglio una volta che hanno capito le regole con cui si gioca a Verona loro le hanno apprese ma hanno una capacità proprio fisica e sono proprio forti li temono tutti in provincia mi piace dire una cosa sulla lingua sulla complessità a me è capitato di poter fortunatamente filmare in Nepal il gioco della lippa in Nepal gli amici mi l'hanno rappresentato avevo un amico interprete che mi ha tradotto i termini in un dialetto neuari la lippa in Nepal viene chiamata Tamakia Pandol e a Venezia la lippa si chiama Pandolo per cui probabilmente Marco Polo ha portato la a 7000 km il nome se andiamo a cercare i nomi diventa un problema colossale probabilmente mi ha strabiliato molto questo ma diventa anche un interessante strumento per accorgersi che le identità si contaminano da sempre assolutamente grazie un'ultima prima di passare a Emanuele Regano un'ultima domanda per Fernando mi interessava così come curiosità visto che parliamo di identità che ruolo ha avuto la lippa nel vostro processo identitario di comunità strillanchese qui a Verona voi siete a Verona giusto no? siete tutti a Verona ecco cioè è un fattore importante nella comunità quando vi ritrovate tra strillanchesi oppure siete in pochi a praticarlo all'interno della comunità e quindi intero comunità no è gioco conosciuto pochi giocatori è giocato solo il campionato che fa questo qua veronese insomma basta tra di noi no tra di noi ci sono vari eventi culturali però giocano sempre i nostri giochi tradizionali basta pochi però alcuni non sanno neanche per esempio Cali Giovanni adesso non sanno niente comunque tu diciamo come tua esperienza personale quando sei arrivato qui a Verona hai ritrovato probabilmente con tua sorpresa un gioco molto simile a quello che facevi in Sri Lanka l'hai ritrovato quindi è stato comunque un fattore insomma gli attrezzi uguali più o meno anche il gioco poche regole noi perché non è migliorato il gioco è così e basta grazie allora torniamo invece alle lingue Emanuele Regano filosofo ex presidente della gioventù esperantista italiana qual è quindi in questo contesto di in questo discorso diciamo di identità lingue identità lingue minoritarie qual è il ruolo dell'esperanto oggi rispetto alle lingue minoritarie alla diversità linguistica anzitutto volevo ringraziare Cesco e i responsabili del Tocati per avermi invitato e tutti gli altri invitati qui presenti con me devo dire che è molto affascinante questo rapporto tra lingue e giochi e quanto appunto possano essere collanti e formanti di una comunità anche in qualche maniera in maniera quasi inconsapevole perché come si diceva prima si gioca un gioco ma non ci si rende quasi conto di come questo formi una comunità e allo stesso modo è per la lingua nel momento in cui non c'è un confronto con un esterno e appunto il confronto di una comunità linguistica con un'altra con un'altra comunità linguistica è il campo in cui subentra diciamo l'utilità dell'esperanto nel mondo contemporaneo siamo abituati diciamo anche un attimo cos'è l'esperanto perché magari alcuni non lo sanno nel mondo contemporaneo siamo abituati a utilizzare spesso soprattutto in Europa come lingua ponte o l'inglese o lo spagnolo comunque lingue che hanno un'origine geografica chiaramente definita nel caso dell'esperanto parliamo invece di una lingua che è una lingua pianificata cioè costruita ad hoc utilizzando elementi di varie lingue vive per lo più lingue europee ed è stata costruita affinché fosse il più regolare e il più semplice possibile da imparare e da utilizzare è in pratica un gioco il più semplice possibile con le regole più elementari e la costruzione la grammatica stessa dell'esperanto è molto simile effettivamente a un gioco a Lego per i suoi sistemi ad incastro ed è un po' il prototipo di come funzionano un po' tutte le lingue senza le irregolarità che sono poi la specificità delle lingue nazionali ora l'utilità dell'esperanto appunto si pone nel momento in cui due comunità linguistiche devono interfacciarsi le une con le altre siamo come dico siamo abituati molto spesso ad utilizzare lingue come può essere l'inglese o come è stato il francese o come può essere una qualsiasi altra lingua che hanno una chiara identità anche a livello geografico anche a livello di comunità e facendo ciò ovviamente noi ci poniamo in qualche modo nei panni di coloro che normalmente come lingua madre parlano quella lingua quindi in qualche modo mediamo anche tutto un sistema linguistico e di pensiero e tutta anche una letteratura una cultura una storia particolare utilizzando quella lingua laddove invece l'intento dell'utilizzare l'esperanto è avere uno strumento in qualche modo neutro e più democratico diciamo che permetta di non essere in situazione di disparità rispetto a un madrelingua per cui si usa uno strumento che in qualche modo è privo di una connotazione comunitaria forte ed è pronto ad acquisire le connotazioni di comunità di coloro che la parlano e che portano dietro tutte le proprie specificità e le proprie identità quindi è molto interessante come in qualche modo si crea un piano di dialogo utilizzando l'esperanto in cui si è tutti allo stesso livello indipendentemente da quella che è la propria lingua madre sia per quelle che sono le potenzialità dell'esperanto come lingua sia per il fatto che c'è proprio una volontà diciamo a livello quasi psicologico nel fatto che tutti coloro che parlano l'esperanto ovviamente hanno mosso dei primi passi per impararla e quindi sono in una condizione di apertura particolare quindi sono anche disponibili ad accettare il confronto con l'altro e anche l'eventuale errore o l'imprecisione c'è una maggiore apertura appunto in questo senso secondo me tra gli esperantisti diciamo sia utilizzando l'esperanto sia utilizzando altre lingue ad esempio amici esperantisti che parlano l'italiano pur essendo stranieri e c'è appunto questa curiosità verso l'identità dell'altro e dall'altra parte un'apertura verso anche le difficoltà che un'interazione inevitabilmente crea quindi ritorniamo anche al discorso appunto che faceva Renata Veruggeris sulle lingue minoritarie l'esperanto in questo senso va in una direzione di multilinguismo di ricerca dell'altro di ricerca dell'identità di altre identità del diverso da sé e diversamente dalle lingue dominanti per ragioni economiche come oggi l'inglese come il stato il francese che citavi tu o lo spagnolo o chissà un giorno magari il cinese alcuni dicono che sono invece lingue etniche lingue nazionali che quindi portano chiaramente una loro cultura l'esperanto invece si come lingua neutra si pone lingua diciamo che difende la diversità linguistica diciamo che non ha un intento in qualche modo massificazione o di omologazione come può essere in una comunità sempre più globalizzata c'è comunque un intento di mantenere più o meno un'identità propria quindi anche a livello di lingue minoritarie a livello di anche concetti più in generale a livello antropologico mantenere quelle che sono le proprie identità come comunità e in qualche modo porsi su un piano di dialogo che è un piano distaccato non è per forza un acquisire un'identità che in qualche modo cancelli quella precedente quella propria ma è un piano appunto di dialogo con l'altro che è totalmente staccato che ha delle sue specificità senza dubbio ma che cerca appunto di essere il più democratico possibile per porre in dialogo anche perché chiariamo un punto che spesso non è comunicato in maniera precisa diciamo dai mezzi di comunicazione molti quando si parla di Esperanto sento domande del tipo ah ma l'Esperanto voleva diventare non so l'unica lingua mondiale che è completamente falso l'Esperanto si pone come seconda lingua l'intento appunto è quello di essere una seconda lingua una lingua ponte una lingua di aiuto nelle comunicazioni tra persone che non hanno altre lingue comuni o che le hanno magari o che le hanno ma che preferiscono utilizzare quella per appunto tutto questo sistema culturale anche che media questa possibilità di porsi in una situazione più paritaria nei confronti di un'altra persona soprattutto nel momento in cui entrambi come ho detto hanno fatto un passo tutte e due un passo verso il centro per trovarsi e non è qualcuno che ha fatto un passo verso l'altro venendogli incontro semplicemente rischiando in qualche modo comunque di trovarsi in una situazione comunque di inferiorità che questo è un po' il rischio nel momento in cui si acquisiscono altre lingue nazionali in generale quando si impara una lingua straniera io direi questo è probabilmente l'elemento dal punto di vista dell'individuo il fatto di dire ci sono individui che imparano una lingua terza che è per dire l'inglese o un'altra lingua etnica però poi c'è anche quindi giustamente quello che dici tu però poi c'è anche il discorso più culturale appunto del fatto che citavamo all'inizio la cultura del mondo esperantista è a sua volta una cultura comunitaria una cultura che ha una sua identità che però non è un'identità nazionale è un'identità diciamo transnazionale parliamo di identità logicamente essendo comunque una comunità che si è sviluppata da più di un secolo ha sviluppato delle sue specificità da una parte questi concetti di apertura di democrazia una visione molto aperta anche rispetto ad altri aspetti della vita può essere dal concetto di relazioni a in generale l'apertura verso gli stili di vita dell'altro e inoltre ha sviluppato anche linguisticamente una serie di termini suoi specifici difficilmente traducibili uno che un esempio che viene sempre portato è il verbo crocodili in esperanto che tradotto in italiano sarebbe qualcosa come coccodrillare che vuol dire essere in un ambiente in un ambito in cui le persone conoscono l'esperanto parlano l'esperanto ma tuttavia parlare la propria lingua madre quindi in qualche modo estragnarsi e tirarsi fuori da questo ambito di parità e anche isolare gli altri utilizzando una lingua che gli altri non per forza conoscono o forse proprio non conoscono proprio per isolarli questo è tipico dell'identità esperantista è un verbo molto particolare che denota quanto l'esperanto sia una lingua viva quindi c'è tutta una comunità di esperantisti quindi di parlanti l'esperanto che appunto è trasnazionale e sceglie questa lingua proprio perché riconosce il valore della diversità linguistica peraltro tornando al tema del rapporto tra lingua economia o lingua politica l'esperanto è un esempio di come diciamo estraendosi quindi dall'identità geografica come si diceva prima o nazionale parlando questa lingua e scegliendola come lingua di comunicazione internazionale o anche lingua di pubblicazione adesso arrivo al tema cruciale ma di ad esempio bandi o politiche europee non si faccia il favore economico ad un determinato paese quindi prima parlando di quanto si possa fare economia nel rispettare la diversità linguistica perlomeno nei confronti dei paesi membri dell'Unione Europea pensiamo a quanto sia ridotto il diritto linguistico di tutti i paesi membri nel momento in cui le politiche le programmazioni i programmi di finanziamento e i bandi sono ormai pubblicati solo in inglese e adesso che andiamo verso la Brexit molto probabilmente ci dovrà essere un cambiamento quindi l'esperanto in questo potrebbe essere forse una soluzione verso questa fine di discriminazione linguistica naturalmente quello che dicevo io per quel che riguarda la comunicazione interpersonale per cui c'è la differenza tra il fare entrambi un passo verso il centro o l'essere io a venire verso di te e viceversa la stessa cosa avviene all'interno della comunicazione tra stati nel momento in cui si sceglie la lingua di uno stato piuttosto che quella di un altro riprendo il discorso del rapporto scritto Green di cui parlavo prima quando dicevo appunto sul confronto delle politiche linguistiche europee risulta nettamente vincitore quindi nettamente più economica una politica europea mono e speranto una delle ragioni principali è che oggi se consideriamo i flussi di denaro che vanno verso l'anglofonia in particolare l'anglofonia diciamo extraeuropea per vendita diciamo tutto ciò che riguarda l'economia del cinema della letteratura della musica della scienza dell'economia e così via questo sono tra gli elementi principali che rispondono a quello che dicevi tu rispetto ai costi delle politiche europee insomma ok io a questo punto se ci sono poi altre domande ripeto potete intervenire in qualunque momento il microfono è lì e lascerei la parola al nostro ultimo relatore Francesca Berti dottoranda all'università di Tubigen sui giochi tradizionali quindi per chiudere ritornando un po' al discorso dei giochi quali sono le tue risposte i tuoi elementi di riflessione sì grazie Cesco forse riprendo un po' le domande che tu ci hai fatto qualche mese fa e ci hai stuzzicato ci ha provocato diciamo per mettere assieme così l'universo della lingua con l'universo del gioco Cesco ci ha chiesto in un mondo di globalizzazione che ruolo hanno i giochi e le lingue nel processo identitario forse non è così facile mettere sullo stesso piano la lingua e il gioco e qui parliamo del gioco tradizionale per cui del gioco legato al territorio è legato ad una particolare gruppo di giocatori la comunità ludica per cui forte nell'identità però mi viene da dire forse nella piramide allora quando io penso a me stessa penso la Francesca ha tante identità una di queste identità non so siccome vivo all'estero la prima identità che è quella che subito viene fuori è il fatto che sono italiana però io di mio mi direi non è neanche quella principale la mia identità è che sono una donna o che sono una appassionata di gioco una studiosa però oggi stando qui con voi ho riflettuto e ho detto beh sicuramente poi c'è l'identità che parlo italiano e forse se appunto da italiano all'estero dunque da migrante in un mondo di globalizzazione in un mondo dove i flussi migratori sono sempre più frequenti a volte mi dà quasi fastidio il fatto di essere sempre indirizzata come quella italiana perché sei facile preda di cliché se non di pregiudizi mentre il fatto effettivamente di essere una donna parlante la lingua italiana questo è puro in un certo senso ed è anche una verità che non è opinabile questa è la mia lingua e dunque molto forte in me e vi ringrazio perché non ci avevo mai pensato prima però ecco forse l'elemento identitario della lingua della lingua di appartenenza cioè la lingua che indica la mia appartenenza è nella scala se ci fosse una scala dei valori dell'identità molto più in alto dell'aspetto del gioco tradizionale che invece è un aspetto sì che appartiene alla cultura però in quell'ambito che qui al Tocati conosciamo bene fa parte del patrimonio immateriale anche quello che forse è più facile anche essere più etereo non così pregnante come la lingua per cui questa grande differenza oggi mi sentirei quasi di dirla la tua seconda prevocazione è stata legarsi a fattori identitari significa chiudersi al confronto o significa usare la propria identità culturale per il confronto e qui mi verrebbe da rispondere forse sia nella lingua reclamando l'importanza delle diversità linguistiche sia nel gioco e il lavoro dell'associazione di giochi antichi di promuovere la diversità e il riconoscimento delle diverse comunità dei giocatori e dei diversi giochi mi viene da dire siamo su un crinale dove è molto facile cadere o nella chiusura degli individui per una protezione della propria identità rispetto all'altro rispetto al confronto dell'altro oppure il crinale di chi invece è curioso dell'altro e dunque va verso la conoscenza delle diversità per cui io sono molto curiosa di come gioca Ramsey a Kali in Sri Lanka o qui a Verona in questi quattro giorni abbiamo visto diversi giochi di lotta o diversi giochi di lippa se sono curioso vado a vedere proprio questi aspetti che dicono lui gioca in un modo lui gioca in un altro però alla fine stiamo giocando non giochiamo allo stesso gioco però io mi occupo di gioco tradizionale e dunque mi riferisco spesso a famiglie di giochi si possono vedere delle famiglie di giochi che vanno al di là dei confini territoriali dei confini territoriali che spesso al mondo giochi sono poi quelli nazionali rivendicati a livello nazionale per cui se questo è un gioco italiano piuttosto che è un gioco di un altro paese nella nostra esperienza nel gioco tradizionale ci sono delle famiglie di giochi che sono giocati in diverse regioni del mondo anche tra popolazioni di cui ci si stupisce come ci sono i giochi di trottole con la trottola con la stessa forma e lo stesso tipo di lancio giocata in un paese del sud dell'Asia e piuttosto che una regione del nord America e questo perché come può essere come può avvenire perché il gioco fa parte di quel patrimonio dell'umanità condiviso e dunque io nel mio piccolo parlo di cultura condivisa del gioco dunque legarsi ai fattori identitari significa chiudersi al confronto o usare la propria identità culturale per il confronto se c'è curiosità per il confronto se c'è sempre apertura all'altro per il confronto è l'attitudine certo non è il gioco in sé certo quindi è comunque offre il fianco comunque a rischi diciamo i fattori identitari sia per le lingue che per i giochi offre comunque il fianco a rischi di xenofobia e di chiusura diciamo in se stessi a livello il campo semantico è poi sempre fonte di a volte io stessa all'inizio quando tu mi hai coinvolto ti ho detto Cesco non voglio parlare dell'identità perché guarda dell'identità non mi interessa proprio niente è un termine che non mi appartiene e invece tu mi hai provocato e mi hai detto no adesso riflettiamo sull'identità sì l'identità nel mio caso mi ha portato in questi due tre mesi a pensare sì è un campo dove ci può anche qui essere il confronto grazie grazie Francesca allora se ci sono altre domande al pubblico noi diciamo abbiamo chiuso un po' la carrellata delle presentazioni che avevamo preventivato se ci sono altre domande il microfono è a disposizione ah prego ho una domanda per il poliglotta perché so che Cesco è un poliglotta non so se però poliglotti siamo tutti dai due in più dalle due lingue in più dalle due lingue in più poli è plurale quindi nello statuto della società io do spesso questa risposta sulla definizione di poliglotta prima che fai la domanda sullo statuto della società poliglotta si parla cioè per essere membri bisogna parlare almeno tre lingue a livello almeno a uno quindi a livello basico allora io non sono poliglotta tedesco a livello etimologico poli è plurale quindi almeno due no e poi poi c'è una definizione di iper poliglotta che però è diverso a partire da dieci però la risposta più bella è quella che in genere diamo noi organizzatori dei congressi poliglotti il vero poliglotta è quello che ha l'interesse e la passione per andare a studiare altre lingue ci sono partecipanti ne ho conosciuti veramente in particolare mi ricordo un partecipante al primo congresso poliglotta che parlava solo inglese e che però era appassionatissimo di lingue e non gli importava minimamente se aveva accanto gente che parlava cinque sei lingue lui era lì comunicava si interessava lui è un poliglotta a tutti gli effetti per quanto mi riguarda quindi la risposta diciamo è una risposta emotiva sulla passione e sull'interesse delle sue lingue al poliglotta c'è Esco Reale che parla più di tre lingue qual è invece per te la dimensione rispetto alla tua identità il fattore della lingua come lo vivi tu invece beh io personalmente lo vivo in maniera cioè un'identità molto forte nel senso che io mi sento nella comunità sperantista mi sento sicuramente sperantista ma io per esempio a Neuchatel vado a tutti gli incontri della comunità greca e tutti mi conoscono tra i greci e quindi questo mi permette di avere scambi di giocare tra l'altro in Grecia giocano i Begemon in tre varianti che si chiamano Portes Fevga e Placotò io le conosco tutte e tre e gioco con loro in greco quindi io sono in un certo senso sono l'unico non greco che è parte della comunità greca di Neuchatel è la stessa cosa con la comunità cinese conosco un sacco di cinesi cibo cinese gioco a scacchi cinesi quindi ho un'identità diciamo multipla e mi sento in parte greco in parte cinesi in parte sperantista in parte chiaramente italiano e così via bellissimo grazie comunque della domanda prego il microfono volevo fare una modesta proposta anche se in chiusura forse sarebbe ora di non parlare più di identità come dicono di identità di sbarrare di non parlare più di non usare più questo termine impropriamente sì cioè mi pare che anche voi stiate parlando tutti di senso di appartenenza perché l'identità A uguale A non esiste negli esseri viventi perché un attimo dopo io non sono più A quindi non c'è questa staticità erachiteo cioè no voglio dire ci sono fior di antropologi che hanno criticato questo concetto certo ma mi pare che voi parlavate normalmente giustamente sensatamente diciamo di senso di appartenenza come diceva Francesca ad essere mi sento della comunità delle donne forse forse di più che della comunità degli italofoni piuttosto che dei tedeschi eccetera eccetera scusate diciamo che quello che abbiamo appena detto direi che rispecchia esattamente quello che dice lei perché nel momento in cui parliamo di avere un'identità per esempio chi viene al Toccati ha un'identità di poligiocatore invece che poliglotta poligiocatore perché chi viene al Toccati tipicamente non è uno che gioca soltanto a scacchio soltanto a a a a lippa è una persona che è interessata a venire qui perché gli piace andare a scoprire tanti altri giochi quindi è un concetto di identità multiple in un certo senso ognuno ha una parte magari iniziale di identità e poi la sviluppa andando a cercare l'altro in tante forme diverse in tante lingue diverse in tanti giochi diversi quindi in un certo senso direi che ci ci troviamo in questa in questa siamo un po' in una convergenza diciamo di idee mi sembra grazie comunque dell'intervento e Massimo come puoi notare dalle nostre magliette abbiamo l'appartenenza e non l'identità ci abbiamo riflettuto sopra nessuno sui simboli anche dei due anni futuri è appartenenza grazie bene ci sono altre domande ok allora io volevo dire un rivolgere un invito a tutti i presenti pure qui alla tavola alla nostra tavola rotonda di firmare il totem della carovana perché siete saliti a bordo di questa carovana la carovana della diversità linguistica e carovana tramontana del progetto europeo Europa Creativa e ci facciamo una foto tutti insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti